Salve a tutti, come ogni lunedì anche oggi cerchiamo di soddisfare le vostre richieste e incominciamo con una splendida sequenza su uno degli più affascinanti felini della terra, il leopardo africano. Stupefacente davvero la forza di questo leopardo. E adesso mandiamo in onda un filmato che ci è stato richiesto dal signor Marco Girardini di Pavolaro in provincia di Vicenza sui delfini, un filmato che interesserà non soltanto lui ma di tanti fans dei delfini, forse una delle specie sulla faccia della terra che più attira gli esseri umani, al punto che, dicono gli scienziati, forse tra qualche decennio riusciremo addirittura a parlarci e instaurare un dialogo con questa specie marina. Secondo un cetologo americano che si chiama John Lilly, che forse è l'autorità più indiscusso in questo campo, è sicuro non soltanto che nel giro di due decenni ci parleremo ma che apprenderemo molto, impareremo molto dai delfini. Lui dice che non sono soltanto una specie intelligente ma intellettuale e che quest'incontro tra l'uomo e il delfino rivelerà idee, filosofie, modi e mezzi finora mai concepiti da mente umana. Un altro scienziato, l'astronomo Carl Sagan, arriva addirittura a dire che i delfini riescono a condurre degli esperimenti su coloro che li studiano, cioè in pratica si prendono benevolmente gioco degli esperti che passano il tempo a studiarli ed è forse per quello che hanno sempre questo sorriso perché si divertono un po' alle nostre spalle. Buonasera, come al solito, come ormai è nostra abitudine ogni lunedì, pensiamo a soddisfare le vostre richieste e andiamo in India, una civiltà a parte da cui ci giungono messaggi di spiritualità, di religiosità a cui forse non siamo più abituati. Lungo il fiume Gange, il fiume sacro per eccellenza che stiamo per vedere nelle prossime sequenze, questa spiritualità raggiunge il suo vertice. E adesso cerchiamo di accontentare i nostri amici piemontesi. Due richieste che ci vengono dal Piemonte, dai bambini della scuola elementare di Cerreto Langhe e dagli amici di Cuneo, tutti due appassionati di prateria nordamericana e quindi manderemo in onda un filmato su uno degli abitanti più sconosciuti di questo ecosistema, un piccolo orditore che si chiama Cane della Prateria. Ecco, delle grandi praterie nordamericane, quelle che siamo abituati a vedere nei film western che sono nel nostro immaginario fin dall'infanzia, purtroppo è rimasto poco. Forse per trovare questi spazi sconfinati bisogna scendere un po' più in giù, nel Sud America, nelle Pampas dell'Argentina. Anche qui è scomparso il gaucho, che era il cavaliere errante, ve lo ricordate tutti, è scomparso già dalla fine dell'Ottocento quando sono state recintate e messe a cultura le Pampas. Però rimane chi ne ha raccolto l'eredità e sono i peones, cioè quelli che lavorano a cavallo tra il bestiame, tra gli ovini e le pecore di queste estese praterie, che spesso sono riuniti in circoli tradizionalisti, così si chiamano, e si vestono ancora con i costumi dell'epoca dei gauchos, ballano ancora al suono delle rustiche ballate di un tempo, insomma cercano di tenere viva questa civiltà dei gauchos delle praterie argentine. Ma è tempo di tornare un po' più su alle praterie nordamericane per un incontro con questa peculiare civiltà dei cani della prateria. Buonasera a tutti, sono madri un po' stravaganti, queste vedove della savana che stiamo per vedere oggi, martedì, la giornata che Gheo dedica agli animali. Sono stravaganti perché sono uccelli parassiti, cioè mettono le loro uova nel nido di un altro uccello, costringendoli in pratica a fare da genitore adottivo alla loro prole. Comportamenti simili in generale hanno una spiegazione, e cioè danno dei vantaggi sia alla specie che li pratica, cioè i genitori che rifilano agli altri la cura dei loro piccoli, sia alla specie che ospita questi piccoli, insomma è un po' uno scambio di favori. Ma ci sono anche casi in cui questo scambio di favori non si verifica, casi in cui gli etologi, cioè i studiosi del comportamento degli animali, non sanno veramente dare una spiegazione. Prendiamo il cuculo, il famosissimo cucù, che è quello che ogni primavera ci dà l'annuncio dell'estate. Bene, questo uccellino celebrato in poesie e in canzoni ha un inizio di vita tutt'altro che idilliaco, anzi proprio sinistro. Infatti la mamma cuculo mette l'uovo nel nido di un altro uccello, questo uovo ci mette nove giorni ad aprirsi, ne esce il piccolo che attende al varco l'arrivo degli altri fratellastri che ci mettono qualche giorno in più. Quindi lui, ancora in plume ma già belli in forza, appena gli altri sbucano dall'uovo li prende e li butta giù dal nido. Un comportamento veramente feroce, tra virgolette. E sembra anche che sia un comportamento che non dà nessun vantaggio alle specie che ospita. In altre parole questi sono solo gli svantaggi. Come mai, allora si chiedono gli etologi, accettano il piccolo ospite? Come mai non si ribellano? Questa è una delle tante domande a cui gli etologi non sanno ancora rispondere, non hanno ancora una spiegazione, perché i meccanismi del parassitismo sono estremamente complessi. Ecco, un po' più umani, tra virgolette, sono invece i comportamenti della nostra vedova, che pratica sì il parassitismo, ma con un po' più di fair play rispetto al cuculo. Buonasera. Nuvole rosa in volo su un lago africano. Sono i fenicotteri, gli splendidi volatili, la cui difficile esistenza ci viene raccontata dal documentario di oggi, martedì, la giornata che, come al solito, Gheo consacra gli animali. Esistenza difficile, dicevo, perché sono sempre in agguato i predatori. In particolare è in agguato l'aquila. E infatti vediamo una sequenza in cui c'è un povero piccolo giovane fenicottero che viene ghermito da un'aquila che se lo porta via. Ecco, l'aquila, la signora del cielo, veramente quella più temibile tra tutti i rapaci, sembra invece sfuggire a questo destino di essere vittima, di fare a sua volta da preda. Ma in realtà anche l'aquila ha il suo tallone d'Achille e ce l'ha durante il periodo in cui è più vulnerabile, cioè quello della nidificazione. Tanto che i protezionisti del WWF, della LIPU e delle altre associazioni ecologiste da un po' di tempo si mettono a fare da guardia i nidi delle aquile. Ma perché mai? Chi è il nemico che minaccia anche la signora dei cieli? Beh, naturalmente l'uomo. Anzi, sono nella fattispecie dei predatori, dei veri e propri rapinatori che si organizzano in bande, vengono addirittura da oltralpe, per rubare nei nidi le uova oppure i piccoli, rivendendoli poi a prezzi da capogiro sul mercato illegale a collezionisti, a persone che poi magari si ritengono in casa con le ali tagliate, così per averli come trofei. E quindi i ragazzi volontari dell'associazione protezionista stanno ai piedi delle rupi dove ci sono i nidi con tanto di binocolo a controllare per settimane che nessuno si è vicini e che l'aquila possa finire in pace la sua nidificazione. Come vedete, non sono soltanto i piccoli dei fenicotteri a passare guai, anche i piccoli delle aquile che qualche volta hanno in loro parte. Buonasera a tutti. Sui monti azzurri dell'India meridionale ci attende oggi Wanderu, questo è un nome in lingua locale, di una scimmia impropriamente detta coda di leone o anche leone, una specie rarissima in via d'estinzione. Ecco, questo è un ritornello un po' penoso, si dice sempre che sono tante le specie in via d'estinzione, ed è vero. Però qualche volta, qualche rara volta, ci sono anche le specie in via di apparizione. È il caso della scimmia leonina che non ha niente a che vedere con la scimmia leone, sono i nomi che si somigliano. Questa scimmia leonina vive nelle foreste dell'America del sud e ce ne sono tre specie conosciute, finora tre specie conosciute. Però qualche tempo fa due biologhe brasiliane, mentre si aggiravano in un angolo di foresta vergine ancora sconosciuto, hanno trovato con loro grande sorpresa una quarta specie che hanno subito battezzato e così riconosciuto come specie a parte. Bene, la cosa singolare che ha strabiliato non solo le due scienziate, ma anche tutti i loro colleghi a livello internazionale, è che questa nuova è arrivata il corpo dorato, la testa, le zampe e la coda nere. Ed è praticamente il contrario di un'altra specie, una di quelle tre già conosciute, che ha invece il corpo nero e la testa, le zampe e la coda dorata. Insomma, è come se fosse, sapete, nelle fotografie quando c'è il negativo, c'è l'una e il contrario dell'altra. E quindi questo aggiunge ancora più interesse all'enigma di queste specie che improvvisamente così compaiono, sono appunto in via di apparizione. Ma torniamo adesso alla nostra cosiddetta scimmia leone con una piccola buona notizia. Vi avevo detto che è in via d'estinzione ed è vero, però il progetto di conservazione che ha avverato WWF sta dando qualche frutto e le ultime notizie ci dicono che è passata da 800 esemplari a 3000, quindi qualche speranza c'è. Buonasera a tutti. Stiamo per avventurarci nel grande deserto del Tenere in Africa. Due sole oasi, un solo albero, poveretto travolto da un camion durante la corsa a Parigi Dakar finito in un museo e soprattutto una siccità terribile che perseguita gli ultimi Tuareg, le ultime carovane, gli ultimi nomadi del deserto. Ecco, gli uomini a poco a poco se ne vanno, abbandonano e quelli che restano, gli animali, come fanno gli animali ad affrontare la grande sete? Quali espedienti escogitano per trovare acqua da bere in queste lande veramente desolate? Se l'è chiesto un fotografo francese, Alain Dragesco, che ha fatto numerose spedizioni nel Sahara per rispondere proprio a questa domanda e ha trovato tutta una serie di stratagemmi. Per esempio c'è un uccello, la grandula del Senegal, che vola, il maschio vola verso una pozza d'acqua distante anche una ventina di chilometri, imbeve le piume e quando torna al nido fa bere gli uccellini direttamente dalle sue piume. Un po' più brutale, certo o meno idilliaco, è il metodo del ghepardo che invece si disseta direttamente al sangue delle gazzelle che azzanna. Ecco, ogni animale naturalmente ha i suoi metodi, però i Tuareg hanno delle spiegazioni un po' più poetiche, più belle. Loro pensano che gli animali abbiano fatto un patto col diavolo o che forse Allah invia una notte la settimana, un angelo dal cielo a dissetare una per una le creature del deserto. I Tuareg però, lo vedremo, non hanno né angeli né demoni al loro fianco e hanno proprio difficoltà a cavarsela da soli. Un nostalgico addio agli ultimi Tuareg del deserto e passiamo a domani, giornata che Gheo dedica all'ambiente. Ci trasferiremo ai bordi del vulcani, anzi potremmo veramente dire dentro ai vulcani. Buonasera a tutti. Sono un po' raccapriccianti, ve lo dico subito, questi riti funerari che stiamo per vedere nel documentario odierno, in cui questi miti aborigeni di una lontana isola asiatica manipolano i cadaveri dei loro defunti. Però, come vedremo, sono in fondo anche poetici e comunque un rapporto con la morte c'è in tutte le culture e ogni cultura lo affronta a modo suo. In fondo anche da noi c'è l'abitudine, c'è stata perlomeno l'abitudine, di per esempio esporre i corpi dei santi come reliquie o gli scheletri a mo' di memento mori. Per esempio a Palermo c'è la cripta dei Cappuccini, famosissima, ed anche a Roma c'è un'analoga cripta nella chiesa di Santa Maria della Concezione. Una chiesa costruita nel 1626 per un cardinale Barberini, Antonio Barberini, un cappuccino e fratello di Urbano VIII. Ecco, in questa chiesa ci sono cinque cripte sotterranee dove sono allineate le ossa di 4.000 cappuccini, sono allineate proprio con un ordine minuzioso, e la terra è cosparsa di terreno di sabbia portata dalla terra santa, per rendere il tutto ancora più suggestivo. Ecco, la cosa singolare che rende questa chiesa particolarissima, anzi un tipico paradosso romano, è che la cripta in questione è vicinissima a Via Veneto. Via Veneto, come vi ricordate tutti, è la strada della dolce vita, protagonista del famosissimo film di Fellini. E quindi c'è questo contrapasso tra la memoria dell'effimero, della frivolezza, e invece la memoria della vita ultraterrena. Questo richiamo alla vita ultraterrena ci avvicina, ci accomuna a questi miti e aborigeni che stiamo per vedere. Buonasera a tutti. Sono un po' raccapriccianti, ve lo devo dire subito, questi riti funerari che vedremo oggi, praticati dagli ultimi Anunu, questi aborigeni di una remota isola asiatica, che sono abituati a manipolare i loro cadaveri. Però poi, guardandoli bene, ci si rende conto che in fondo sono anche poetici. E, dopo tutto, un rapporto con la morte è tipico di tutte le culture, ogni cultura lo affronta a modo suo. Però, anche da noi ci sono dei riti, per esempio, delle abitudini, quali quelle di esporre i corpi dei santi come reliquie, o quelle di esporre le ossa e gli scheletri come memento mori, a ricordarci appunto che dobbiamo morire. Per esempio, nella famosa cripta dei cappuccini a Palermo c'è questo ossario, e c'è anche in una chiesa, Santa Maria della Concezione, a pochi passi dal centro di Roma, che è un'altra chiesa appunto dei cappuccini, costruita nel 1626 per un cardinale, che era appunto un cappuccino, fratello di Urbano VIII. Ecco qui, in cinque cave sotterranee, troviamo le ossa di ben 4.000 cappuccini che si sono succeduti, generazione dopo generazione, in quest'ordine religioso. Ossa disposte con una minuzia un po' macabra, però estremamente suggestiva. Il pavimento è cosparso di terra portata dai luoghi santi, proprio per rendere ancora più evocativo questo ambiente. Ecco, quindi la cosa paradossale è che questa chiesa si trova a pochi passi da Via Veneto, consacrata alla memoria della dolce vita, vi ricordate il film di Fellini. Quindi c'è questo contrapasso tra la memoria dell'effimero, della frivolezza, e invece il richiamo alla vita ultraterrena. Un richiamo che ci accomuna a questi miti aborigeni che stiamo per vedere in un angolo lontanissimo dell'Asia. Molto meno cupo, anzi solare e colorato, è il mondo che ci attende domani, la giornata che Geo dedica all'ambiente. Un mondo che ha i colori dell'arcobaleno. Buonasera, appuntamento sul tetto del mondo oggi, tra le vette più alte della terra, per esplorare insieme un mondo di demoni e di spiriti. I tibetani infatti credono nella presenza costante della divinità, che spesso abita elementi naturali. Per esempio pensano che il principe dei demoni abiti in un albero. Non c'è niente di strano perché l'albero in tante culture è stato considerato il simbolo dell'unione tra il divino e l'umano. Anche se nella nostra epoca poco portata al sacro sta correndo brutti rischi, se la vede brutta. Per esempio proprio nel Tibet, sotto la dominazione cinese, sono state abbattute grandi foreste. Ma proprio dalla Cina, ultimamente, ci è arrivato un segnale nuovo di riflessione su questa devastazione. Si tratta di un libro intitolato Il re degli alberi, scritto da un giovane autore, un quarantenne, di nome Hacheng, che sta diventando famoso anche in Occidente. Hacheng racconta la storia diretta di un gruppo di ragazzi, di cui faceva parte anche lui, che ai tempi di Mao, ai tempi della rivoluzione culturale, viene mandato a distruggere una foresta di alberi inutili, tra virgolette, per piantare alberi utili. E qui i ragazzi incontrano un boscaiolo, l'Aoxiao, detto il grumo, uno con le mani forti come radici, che si oppone all'abbattimento degli alberi, soprattutto si oppone alla distruzione di un albero, detto il re degli alberi, in cui si pensa che risiedano gli spiriti del bosco, l'anima stessa della foresta. Tant'è vero che quando l'albero viene infine abbattuto, l'Aoxiao muore. È proprio il segno di uno scontro tra due culture, scontro che sta avvenendo anche nel Tibet di oggi, da una parte la Cina contadina millenaria e dall'altra questa Cina rivoluzionaria ideologica. È anche il segno di una rivincita dell'albero, del rapporto millenario tra l'uomo e l'autura che vince al di là di ogni fanatismo ideologico. Scendiamo anche noi dal tetto del mondo e andiamo verso l'India, che vedremo nel filmato di domani, dove nelle zone desertiche del Rajasthan è in corso un grande progetto di riforestazione. Buonasera, tutti ricordiamo l'ammutinamento del Bounty, in particolare il film con un fascinosissimo Marlon Brando giovane. Ma la storia che raccontiamo oggi, una delle grandi storie di Geo, non riguarda direttamente il Bounty, bensì Pandora, una delle navi che la marina inglese inviò sulle tracce dei ribelli per riportarli in patria e per punirli. L'anno scorso c'è stato il bicentenario del più famoso ammutinamento della storia, c'è stata una mostra revocativa a Londra e qualcuno si è chiesto, ma che fine hanno fatto i discendenti degli ammutinati del Bounty, dei più famosi ammutinati del mondo? E sono andati a Pitcairn, una piccola isola, nel Pacifico, sperduta nel Pacifico, dove vivono ancora 47 discendenti degli ammutinati del Bounty in una condizione di totale isolamento, quasi come ai tempi del Bounty. Pensate che ci arrivano solo 4 navi l'anno, non c'è la televisione e quindi le condizioni di vita non sono poi molto dissimili da quelle che vissero Fletcher Christian e i suoi colleghi. L'unica persona che è restata a lungo con questi sperduti discendenti del Bounty è un antropologo americano, un tale Lionel Shapiro, che li visitò nel 1934 e ne fece oggetto delle sue ricerche. Una delle particolarità di questi studi, una particolarità curiosa, riguarda il patrimonio genetico di questi discendenti. Sembra che i maschi assomigliano ancora ai loro antenati britannici, mentre le donne, tanto meglio per loro, hanno un pizzico di geni polinesiani in più, cioè assomigliano a quelle splendide polinesiane che tanto affascinarono i ribelli del Bounty. Ribelli sulle cui tracce troviamo la sfortunata nave Pandora. Diciamo addio alla sventurata Pandora per trasferirci domani in un paradiso esotico di mari scintillanti e di dolci musiche. Ma come in ogni paradiso terrestre che si rispetti, anche qui si annida una presenza inquietante. Buonasera a tutti. Una cascata di lava scintillante, immensa e un omino bianco piccolo piccolo infinitesimale. Vulcani e vulcanologi sono i protagonisti del nostro filmato di oggi, giovedì, giornata che Geo dedica all'ambiente. Ecco, ma i vulcanologi moderni, nella loro sfida ai vulcani, hanno oggi i conforti della tecnologia avanzata. Per esempio, hanno caschi di fibre di vetro, tute resistentissime che resisterebbero a temperature da inferno. Ma c'è anche chi i vulcani li ha sfidati faccia a faccia, potremmo dire, a mani nude. Si tratta di una regina, Capiolani. Capiolani viveva nelle Hawaii nel secolo scorso e si era convertita al cristianesimo. Ovviamente desiderava che i sudditi facessero altrettanto, ma questi resistevano perché erano fedeli della dea Pele, la dea dei vulcani havaiani. Infuriata, Capiolani decise di farla finita e di sfidare direttamente la dea. Salì sui bordi di uno dei vulcani più grossi dell'isola Hawaii e lì cominciò a declamare dei passi della Bibbia. Non contenta, mangiò anche un mirtillo che era sacro alla dea. Tutti si aspettavano che Pele reagisse furiosamente, invece tutto filo liscio e Capiolani ridiscese, trionfante e convinta di avere per sempre convertito il suo popolo. Ma si sbagliava. Infatti chi oggi sale sui vulcani delle Hawaii non di rado trova dei cartoccetti pieni di banane, di frutta varia, riso e persino bottiglie di gin dedicate alla dea Pele dai suoi fedeli. Ecco però, oggi non è più tempo di sfide tra regine e dee. Le sfide ai vulcani si fanno su basi tecnologiche e scientifiche. Vediamo insieme come. Dopo questo gran finale con lava, lapiglie e ceneri passiamo a domani, venerdì, la giornata che Geo dedica all'antropologia, all'archeologia, all'avventura, ai grandi viaggi. Ci attende per l'appunto un grande viaggio attraverso un intero continente, l'America Latina. Buonasera a tutti. Le cascate dello zambesi che stiamo per vedere nel filmato di oggi, dedicata all'ambiente, come tutti i giovedì di Geo, sono famose per i loro arcobaleni. Ma non sono soltanto i colori dell'iride a illuminare lo scenario, ci sono anche i colori sfarzosi delle piume degli uccelli, come vedremo, e in particolare i pigliamosche del paradiso, che sono uccelletti piccoli, piccoli come passerotti, ma però con degli strascichi veramente lussuosi, lunghi un metro. Ecco, a proposito di pigliamosche, questi lussi sono piuttosto frequenti in questa famiglia di uccelli. C'è per esempio un altro pigliamosche del paradiso che vive nelle Seychelles, altro luogo che spesso si candida come paradiso terrestre, e che gli indigeni chiamano la Verve, cioè la Vedova. Questa Vedova è ovviamente tutta nera, come dice il nome, però compensa questa mancanza di colori con uno strascico veramente sontuoso. Credetemi, è un'esperienza vederla volare nel bosco in cui vive, nella piccola isola di La Dig, perché pare veramente di assistere all'uscita da teatro di una gran dama in nero. Ornitologi di tutto il mondo accorrono in questa isoletta, che è stata prescelta come parco nazionale, consacrata come parco nazionale, perché purtroppo di esemplari di questa Vedova ne sono rimasti pochissimi. Ed è quindi veramente un'esperienza rara poterla ammirare, così come è raro poter ammirare i suoi parenti dello Zambesi nei loro sforzosi abiti sotto i mitici arcobaleni dell'Africa. Dalla ricchezza del mondo naturale africano alla dura realtà di un ambiente urbano del continente nero. Vedremo domani, giornata che Geo dedica all'avventura, ai grandi viaggi e in questo caso all'antropologia, i bambini di Fostat. Buonasera a tutti. La sabbia che avanza, il deserto che conquista i terreni fertili, l'esodo delle popolazioni, è una sequenza che si ripete ormai con monotona drammaticità in tutto il terzo mondo e che ci viene riproposta oggi dal documentario dedicato alla lotta contro la deforestazione in India. Grazie al cielo qualche speranza c'è anche. Per esempio in India c'è una piccola comunità che vedrete nel filmato che vive proprio rispettando la natura, addirittura considerandola sacra, quindi in armonia con tutti gli esseri viventi. Però non sono gli unici in India. Non a caso è proprio in India nato il movimento Cipco in una valle ai piedi dell'Himalaya, nato all'inizio degli anni 70 e ormai diffuso in molte zone rurali di quel continente, di quel paese. Questo movimento nasce dalla parola Cipco che significa abbraccio nella lingua locale ed è proprio abbracciando gli alberi che gli indigeni, in particolare le donne, sono riusciti a salvare le foreste dalle motoseghe e dai bulldozer delle compagnie dei commercianti di legname, salvando poi anche il loro territorio dalla desertificazione e dalle alluvioni, perché sapete che alluvioni e desertificazione sono veramente i due poli del pendolo che in genere fanno seguito all'abbattimento delle foreste. Questo movimento Cipco, dicevo, si differenzia dagli altri movimenti protezionisti, per esempio quello occidentale, proprio per la sacralità della natura. Come spiega la studiosa indiana Vandana Shiva in un suo recentissimo libro, Sopravvivere allo sviluppo, nessuna lotta per la difesa della natura potrà avere successo in India come altrove se non si recupera il senso del sacro, se non si riesce a pensare alla natura non come a materia prima da sfruttare, ma come a una madre che dà sostentamento e vita e quindi deve essere considerata sacra. Passiamo a domani, giornata che Geo consacra l'avventura. Isabel, la protagonista, ragazza francese che vedremo insieme, è una che di avventure se ne intende. Ecco un piccolo saggio delle sue multiforme imprese. Buonasera, come tutti lunedì anche oggi cerchiamo di soddisfare le vostre richieste e ci attende un lungo viaggio in Africa, che ci avete chiesto voi, lungo il fiume Niger, tra le maschere del popolo Togon. Prima però tre minuti a tutta velocità, avanti tutta. Dopo questa corsa a mozzafiato ci vuole un ritmo un po' più lento, è quello che troveremo tra poco in Africa tra le danze e le cerimonie rituali del popolo Togon, tra queste maschere splendide che stiamo per mostrarvi. Ecco per noi occidentali, per noi italiani soprattutto, quando si dice maschera si dice carnevale, quando si dice carnevale si dice Venezia, il famoso carnevale veneziano che è stato rinverdito proprio in questi ultimi anni. Però forse non tutti sappiamo che si tratta di un carnevale molto antico, pensate che il primo accenno si trova tra le carte del doge Vitale Falliero, addirittura nel 1094. Però sembra che per mettersi maschera i veneziani abbiano aspettato fino ai tempi della conquista del Levante, ai tempi di Costantinopoli, della presa della città di Costantinopoli intorno al 1200. E sembra che si siano così innamorati delle maschere che le mettevano dappertutto, persino in chiesa, persino nei monasteri. Per cui il governo della Serenissima emanò una serie di divieti severissimi che però non impedirono ai veneziani di dedicarsi a questo folle amore per le maschere, al punto che i costruttori di maschere divennero una categoria speciale, con speciali privilegi. Ecco, ma lasciamo i passati splendori della Serenissima e torniamo alle nostre maschere africane che invece non vengono usate per divertimento, ma per riti religiosi con un profondo valore simbolico che noi occidentali ormai abbiamo perso completamente. Dopo questa corsa a mozzafiato ci vuole un ritmo un po' più lento e quello che troveremo in Africa, lungo il fiume Niger, tra queste maschere splendide che stiamo per mostrarvi. Ecco, quando noi diciamo maschere, noi italiani ci viene subito in mente il carnevale, il carnevale ci fa venire in mente Venezia, perché il carnevale veneziano rinverdito da qualche anno è il più famoso in Italia, però forse non tutti ci ricordiamo che questo carnevale viene da lontano, è antichissimo. Pensate che se ne parla per la prima volta nelle carte del Doge Vitale Faliero intorno al 1094, però per mettersi in maschera i veneziani hanno dovuto aspettare ancora un paio di secoli, verso i tempi della presa di Costantinopoli, verso 1204. E gli è venuta una tale folle passione per le maschere che andavano dovunque mascherati, persino in chiesa. E a questo punto la Repubblica, la Serenissima, dovette manare una serie di devieti per impedire questi eccessi, ma non riuscì a frenare questa passione dei veneziani per la maschera, tanto è vero che i costruttori di maschere diventarono una categoria speciale con dei privilegi speciali. Ecco, ma torniamo alle maschere africane, alle maschere che hanno un profondo significato rituale e religioso, che non sono usate per divertimento come da noi, un significato che purtroppo noi abbiamo perso completamente. Domani voleremo in Antartide e tra i ghiacci di quel remoto continente assisteremo a un incontro un po' inconsueto tra un gruppo di pinguini e un gruppo di ricercatori.